ben ritrovati ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video post juve lazio 1 a 0 allora pensavo fosse una partita un po più semplice visto che siamo stati in superiorità numerica dal ventesimo ventiquattresimo del primo tempo in maniera assolutamente giusta direi però invece è stata veramente una partita difficile molto difficile risolta negli ultimi minuti o per lo meno nell'ultima parte della partita grazie all'autovol allora abbiamo un problema abbiamo un problema è che non tiriamo non tiriamo e non tiriamo in porta anzi non è che non tiriamo tiriamo però in porta no perché abbiamo fatto tanti tiri ma fuori traverse occasioni mancate alla di fuori poco come la punizione di bravi c'è in occasione dell'espulsione come il colpo di testa di douglas lewis c'è sempre siamo lì lì però in porta tiriamo poco il primo tiro in porta della nostra squadra è stato di vlavic intorno all'ottantesimo minuto poco troppo poco fin troppo poco da lì in poi abbiamo fatto più tiri ma perché perché c'era la lazio che si era tutta lintanata dietro e noi a testa bassa ad attaccare però nonostante questo nonostante tutto questa situazione che ovviamente dava una sorta di vantaggio a noi perché ovviamente la lazio cercava di far passare tempo avendo l'uomo in meno e avendo giocato già per almeno 60 minuti con appunto la defezione insomma dovuta a quell'espulsione giusta di romagnoli però veramente facciamo tanta fatica di arrivare al tiro ma tanta 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 partita di arrivare al tiro andiamo per gradi primi venti minuti secondo me sono stati una solita Juventus che in fase di studio dell'avversario concede forse troppo e pativa quello che era il pressing alto da parte dei laziali e spesso e volentieri ci hanno dato dei grossi grattacapi dietro fortunatamente senza danni però comunque il pressing dietro alto sui portatori primi portatori di palla ci impediva di uscire come avremmo voluto poi l'espulsione ha girato un po le cose a nostro favore c'è da dire che tra l'altro l'espulsione non è stata neanche ravvisata dall'arbitro fortunatamente il VAR ha fatto un attimino rinzenzare l'arbitro perché è assolutamente netta come espulsione perché era un'occasione nitida per poter arrivare al gol caluro si presentava da solo davanti a prove del fortuna vuole che era proprio insomma un attimo prima di entrare in area quindi sarebbe stato eventualmente rigore con rosso che sarebbe stato insomma il vantaggio assoluto da lì in poi abbiamo giocato noi da lì in poi la lazio ha solo cercato di contenere danni un po ovviamente rintanata dietro ha evitato il pressing alto e quindi avendo appunto l'uomo in meno ha cercato in qualche modo di sbarcare il lunario cercando appunto di arrivare stentato quello che è il primo tempo per poi cercare di fare il possibile nel secondo tempo secondo me qualcosina in più abbiamo usato anche perché inevitabilmente i minuti cominciavano a scorrere e avevi sempre meno tempo o la frenesia un po altro però alla fine dei conti veramente ripeto facciamo troppa fatica per arrivare il tiro poi comunque le costruzioni del gioco c'è soprattutto sugli esterni wea quando è entrato non avrà fatta almeno tre o quattro cross così come dall'altra parte cambiasse così come altri insomma però veramente facciamo troppa fatica onestamente per guardando i singoli non mi penso non penso di dare delle insufficienze l'unica insufficienza perlomeno non un 6 pieno è Ildiz Ildiz abbastanza anonimo non ha fatto quasi nulla sono stati alcuni spunti però il resto insomma sinceramente mi aspetto molto di più da parte di Ildiz Douglas Lewis ha giocato bene secondo me ha fatto una buona partita peccato per quell'occasione che insomma avrebbe potuto in qualche modo dare una sorta di svolta anche a livello diciamo di testa visto che non sta passando un momento buono ha rischiato ha rischiato molto in due occasioni in quell'occasione in aria palla lontana ha sbracciato fortunatamente non con il pugno ma con l'avambraccio però meglio non farle certe cose perché avrebbe potuto prendere il giallo se fosse stato magari in qualche modo ravvisato dall'arbitro e in quell'occasione dove ha fatto un fallo diciamo un po un cattivo su rovella tra l'altro in quell'occasione c'è stato appunto il giallo da parte dell'arbitro sinceramente dovrebbe essere un po meno il rovento in alcuni contesti però ripeto secondo me ha fatto una buona partita si è visto Azic il debutto di Azic come appunto dicevo durante la conferenza stampa di presentazione di Motta e ha giocato anche bene anche tirato in porta insomma si è fatto vedere quindi insomma le doti ci sono e ricordiamoci che è un 2006 18 anni per il resto insomma c'è sinceramente non ho nulla da dire fortunatamente dovevamo vincere e abbiamo vinto però con troppa fatica troppa 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 fatica dobbiamo cercare di arrivare un po di più al tiro detto questo io vi ringrazio vi saluto vi invito qualora l'avete già fatto ad iscrivervi al canale è assolutamente importante attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui posto nuovi video momento in cui vengono fatte delle nuove live like se avrete apprezzato quello che è il contenuto mi raccomando quello importante fino alla fine sempre solo e nonostante tutto forza Juve